Per la prima volta nella storia, un ex presidente ha dovuto comparire davanti a un tribunale federale per rispondere di un'incriminazione. È accusato di 31 reati, dallo spionaggio all'associazione a delinquere. Parlo ovviamente dell'ex presidente Donald Trump, che si è presentato in tribunale a Miami per la questione dei documenti riservati. Ma Trump ha diversi processi in corso, alcuni per accuse molto vecchie e stanno arrivando tutti insieme, proprio in corrispondenza della campagna elettorale. E questo è davvero singolare. Tante accuse tutte insieme all'improvviso, proprio adesso. Ma di questo parleremo più avanti. Ora vorrei parlare meglio di questa storia dei documenti riservati. Per capire bene, dobbiamo aspettare di sentire la difesa. Per ora possiamo parlare della tesi dell'accusa e dei procuratori che la alimentano. E tutto il procedimento risulta molto traballante. Epoch Times ha fatto un'ottima analisi. Adesso riassumo alcuni punti chiave. Innanzitutto, l'intero procedimento si basa su una teoria legale inedita, o inaudita. E siccome nessuno aveva mai usato la magistratura in questo modo, le regole se le stanno inventando man mano che procedono. Ma, al di là degli aspetti di creatività giuridica, esistono alcuni precedenti storici molto seri su casi simili. E quei casi sono stati trattati in modo diverso. Le principali accuse relative all'Espionage Act risalgono al 1917. Ma il problema è che quando si tratta di documenti secretati, i presidenti e gli ex presidenti non sono tenuti a rispettare l'Espionage Act, sostituito nel 1978 dal Presidential Records Act. E questa è la legge che stabilisce le regole. Cioè, stabilisce che, quando un presidente lascia il suo incarico, deve consegnare i documenti ufficiali in suo possesso al NARA, cioè al Registro Nazionale Archivi e Documenti. Ma la legge consente anche agli ex presidenti di conservare dei documenti personali, cose come diari, note, appunti personali, eccetera. Quindi, qual è il problema? In casi precedenti, come quello di Bill Clinton e altri, è stato stabilito che è il presidente a decidere quali documenti possono essere considerati personali e quali devono essere consegnati al NARA. Chiaro, no? Trump stesso lo ha già detto e lo ha ripetuto in un recente discorso nel New Jersey. E qui c'è un problema più grande. Il Presidential Records Act stabilisce che i documenti presidenziali debbano essere consegnati al NARA. Ma, come ha detto Trump, questa non è una norma penale. Quindi, la mancata consegna dei documenti non è nemmeno un crimine. Al massimo, un ex presidente potrebbe essere chiamato a risponderne in sede civile. E, tecnicamente, è la legge sui registi presidenziali quella a cui Trump è soggetto. Ma, ciò nonostante, i procuratori stanno aggirando la questione. Tecnicamente, accusano Trump di violazione dell'Espionage Act per non aver rispettato il Presidential Records Act. Sì, avete capito bene. Ma, guardate, facciamo finta che questo non abbia importanza. Ammettiamo pure che il fatto che Trump si è incriminato per aver violato l'Espionage Act per non aver rispettato il Presidential Records Act abbia senso. Seguitemi. Ai sensi dell'Espionage Act, un ex presidente non ha alcun obbligo di consegnare documenti riservati, non prevede alcun obbligo, e non solo perché non è la razio della legge. Questa legge non è stata concepita per essere usata in questo modo, ma anche perché, prima di questa legge del 1978, su cui si basa in toto questo processo, nemmeno un presidente era tenuto a consegnare nulla. Figuriamoci un ex presidente. La legge sullo spionaggio, poi, risale al 1917, e non c'entra assolutamente niente con questo presunto reato. Vorrei essere chiaro. Questa legge del 1917 non dice che è illegale che un ex presidente si tenga dei documenti riservati. Questi hanno incriminato Trump per aver violato una norma diversa, che poi è una norma civile, non penale, ma lo accusano di questa invece che di quella. Immaginate di fumare una sigaretta in un'area vietata ai fumatori. Normalmente la pena è una multa, è una piccola infrazione. Ma immaginate che un poliziotto se ne esca a dire che, siccome l'accensione della sigaretta ha provocato un incendio, il fumatore è accusato di incendio doloso. Questo esempio è simile al modo in cui stanno accusando Trump. Prendono una violazione minore e la trasformano in un altro crimine pur di mettere in piedi un procedimento. Insomma, è un imbroglio. E sono proprio questioni come questa che hanno spinto gran parte del partito repubblicano a stringersi attorno a Trump e a denunciare l'uso della giustizia per fini politici. Sentiamo il presidente della Camera, Kevin McCarthy. che ha un numero di documenti classificati in un garage. Ma si arriva molto più di più, perché è stato qui più di 40 anni. E avete avuto questo un po' molto tempo. Quindi l'idea che Presidente Biden è stato presidente, è stato vicepresidente, ma è stato un senatore. E per essere capito a un documento, quando sei un senatore o un congressman, che fa un scifo, hai bisogno di scendere il documento. Hai bisogno di scendere il documento. Ma anche tutto questo non è sufficiente, perché devono ancora dimostrare l'intento criminale. Devono dimostrare che Trump ha intenzionalmente conservato documenti sulla difesa nazionale. E anche questo sarà molto difficile. Ma è qui che entra in gioco il processo penale, perché il processo stesso è già una punizione. L'indagine stessa è stata usata per creare nuovi crimini. Il mandato di comparizione iniziale del maggio del 2022 è stato accusato di essere eccessivamente ampio. E guarda caso, quel mandato è stato spiccato dal Ministero della Giustizia. Ma per ora di questo non ne parliamo. Comunque, la natura eccessivamente ampia di quel mandato di perquisizione potrebbe aiutare gli avvocati di Trump che, dopo aver consegnato tutti i documenti secretati, ora è accusato di aver dato istruzioni a un assistente personale, Walt Nauta, di spostare le scatole per i suoi avvocati. Trump dice di averlo fatto proprio per ottemperare al mandato. Nauta avrebbe quindi spostato dal magazzino 64 scatole, dove teneva documenti e altri oggetti relativi alla sua presidenza, e le avrebbe portate nella residenza di Trump a Mar-a-Lago. Ma si sostiene che abbia spostato 30 scatole in quella stanza poco prima che un avvocato di Trump andasse a prendervi i documenti. Insomma, si vuole intendere che Trump avrebbe cercato di nascondere i documenti. E qui si torna all'intento. E a questo proposito, ora dicono che Trump volesse esaminare le scatole. Ricordiamo che a Trump era stato chiesto di consegnare i documenti timbrati classificato. Non gli era stato chiesto di consegnare delle scatole contenenti documenti. Le scatole in sé, ovviamente, non erano in questione. La questione erano i documenti riservati. Per cui, Trump poteva benissimo aver frugato in quelle scatole proprio per cercare quei documenti che doveva consegnare. E il fatto che il mandato fosse così ampio potrebbe essere un problema per l'accusa. E quindi, l'intento di Trump poteva anche basarsi su come lui interpretava casi simili del passato. Trump sapeva che la legge che lui doveva rispettare era il Presidential Records Act. Quindi, quello era il suo punto di riferimento. E lui sapeva che in base a quella legge poteva negoziare con il NARA quali documenti consegnare. Trump sapeva anche che esistono precedenti legali su come gli ex presidenti, come appunto Bill Clinton, e altri funzionari, come l'ex ministro degli esteri Hillary Clinton, hanno gestito i propri documenti riservati. In alcuni casi ci sono stati dei contenziosi. E anche questo servirà a Trump a dimostrare il proprio intento. Possono dimostrare che Trump intendesse conservare dei documenti riservati di interesse militare che legalmente non poteva conservare? Trump può tranquillamente prendere come riferimento il modo in cui altri, prima di lui, si sono tenuti documenti simili senza problemi. E che l'FBI ha permesso a questi altri di farla franca. A ogni modo, il Ministero della Giustizia sta sostenendo le proprie accuse. E il ministro Merrick Garland ha anche difeso l'integrità del procuratore speciale. Sentite. Come ho detto, quando ho indicato il signor Smith, l'ho fatto per sottolineare l'importanza che per il Ministero della Giustizia hanno l'indipendenza e l'assumersi le proprie responsabilità. Smith è un procuratore di esperienza. Ha messo insieme un gruppo di procuratori e agenti esperti e capaci, che condividono la sua dedizione allo Stato di diritto. Quanto al procedimento, diversi reati e accessori potrebbero cadere se i reati di base non reggono. Questo è almeno il precedente legale. La questione principale, tuttavia, è se il Ministero della Giustizia stia seguendo i precedenti legali o meno. E poi, gli avvocati di Trump potrebbero sostenere, e ha ragione, delle scorrettezze procedurali dal lato dell'accusa, perché i procuratori hanno acquisito le comunicazioni tra Trump e i suoi avvocati, che in circostanze normali è considerata una violazione del rapporto avvocato-cliente. Anzi, buona parte dell'accusa si basa su prove che normalmente sono segreto professionale. Vedremo se sceglieranno questa linea. Per ora, non ci resta che vedere quale linea di difesa sceglierà il Collegio di Difesa di Trump. Vedremo. Grazie. Grazie.